Campagna elettorale serrata anche per il candidato sindaco del centro Luigi Melica che nella mattinata in via Rossini insieme al delegato cittadino Wojtek Pankevic e al candidato Udc Nicola Pacella hanno fatto un sopralluogo constatando la chiusura totale al traffico della via e un cantiere letteralmente abbandonato, scrivono. Anche in questo caso, ha detto Melica, sono stati i residenti a spiegare la situazione in quanto i primi destinatari dei disagi del cantiere. Il manto stradale è stato completamente divelto, resta il marciapiedi solo da un lato, mentre dall'altro i portoni delle abitazioni sono state collegate con una serie di pedane pericolanti che mettono a rischio l'incolumità degli abitanti, la maggior parte dei quali costituita da anziani. Ma oltre al solito problema della trasparenza su cui questa amministrazione non impara mai, commenta il candidato sindaco, uno dei residenti mi ha mostrato le pareti dell'abitazione al piano terra completamente coperte dall'umidità. I danni sarebbero stati causati proprio dall'apertura del cantiere e molto probabilmente si aprirà un contenzioso con l'amministrazione per il risarcimento. Federica Ferreri, invece, candidata al Consiglio Comunale nella lista Regione Salento a sostegno di Paolo Perrone, ha tenuto un incontro per raccontare il progetto della sua lecce aperta e diversamente abili. Il mio impegno non è un impegno legato ad un momento storico, un impegno temporaneo. La disabilità è un mondo che può riguardare tutti e in qualsiasi momento. E io questo impegno voglio portarlo con orgoglio. Questi i programmi dei candidati in corsa per un posto in Consiglio Comunale a Lecce. Grazie. 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 Grazie.